Benvenuti a MeteoGiulianci.it, dopodomani venerdì 20 gennaio, nuvole, pioggia e vento su quasi tutta l'Italia per il passaggio della perturbazione giunta giovedì, ma vediamo la mappa del satellite virtuale, vedete le molte nuvole che ricoprono tutta l'Italia. Che tempo allora farà dopodomani? Sereno sulle regioni del nord ovest per l'arrivo di venti di fenne, molte nuvole sul resto d'Italia, debole nevicate sulle alpi di confine, pioggi su Venezia, Marche, Umbria, Nazio, Campania, Calabria ed isole, assenza di nebbie e di gelate. Per quanto riguarda le temperature, queste saranno un rialzo su quasi tutta la penisola. Bene, termino qui, vi ringrazio per l'ascolto, ancora un buongiorno.